ciao ragazzi siamo tornati al punto dove ci siamo lasciati allora io direi di fare una cosa questi qui li possiamo anche non fare per adesso perché giù ci sono dei lumini da prendere uno qui e uno in fondo lì però questi qui non si attaccano praticamente quindi io direi di lasciarli per un attimo stare per l'ustriamo prima la zona andiamo a fare a questo chiattolone che sta qui questo è molto semplice bene ok questo chiattolone l'abbiamo fatto andiamo a vedere prima questa zona sotto dove ci sono altri chiattoloni e ci sono tutti i cosi di veleno però c'è da stare attenti quelli lì bisogna lasciarli stare vieni vieni un attimo che ti giro intorno mentre tu dai la botta io ti finisco mi sembra che ce ne sta un altro qua dietro eccolo qua devo stare attenti sempre che non distrugga benissimo andato anche il chiattolone con serenità con serenità allora ecco allora dovevamo andare ad aprire la porta allora qui ci sono due cose da dire qui giù praticamente si è tutta schifezza questa quasi muore in tranquillità proprio c'è da dire una cosa in fondo a questa strada c'è un lumino quel lumino la fiaschetta di estus allora ci sono due cose da poter fare qui o ci andiamo adesso andiamo a prenderlo diretti e moriamo no non moriamo ma ci avveleniamo oppure aspettiamo dopo che togliamo tutta la merdaccia aspettiamo dopo di togliare tutta la robaccia e allora io vi ho fatto vedere dove la fiaschetta estus in modo che se volete andarci subito ci andate se no no e proseguiamo noi proseguiamo normalmente ce ne andiamo da quello che si avvelena che me lo ricordo che si avvelena qui c'è uno che è grandissimo questo qui passando qui si avvelena possiamo sia farlo che aspettare dietro che aspettare che muoia da solo perché tra un po' questo tizio morirà da solo e non è vero perché non si avvelenà no no si avvelenano tra un po' inizierà deve prima è come noi no la barretta deve alzarsi eccolo qui sta iniziando a morire guarda ah dai la lasciamo morire da solo una lenta agonia si si guardalo come muore tranquillità sei avvelenato peggio di... oh morto avvelenato e ci lascia pure una titanite no una pietra liscia se tu non sai che non è sempre quel giorno faremo un video solo con quell'uccellino con tutte le pietre che prendiamo state attenti a queste qui non non le toccate perché si rompono e vi avvelenate come dei birloni allora qui io qui uso l'arco perché... e mi ricordo quante volte siamo morti per saltare là dentro si ce ne sta un altro qui e uno anche più su più visibile no ok morto? si no no morto? adesso si ce n'è uno qui morto? andato adesso possiamo salire senza avere questi qui che ci avvelenano qui ci sono dei chiattoloni che rompono un po'? adesso non un po' oh sono caduto qua c'era un lumino? si si c'è un lumino lo prendiamo qui dove era quello che abbiamo ucciso che poi ricordami una cosa quando siamo saltati là che siamo morti mille volte valeva la pena? si 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 vale la pena perché c'è anche una balestra che chi la usa è molto buona ti ha preso? no no scendi no scendi eh si però l'altro forse scende no scende lui ok dai abbiamo finito di giocare bene uno è andato ne sono tre se non ricordo male si? si qua dietro c'è qualcosa? no mi sembra di no non si può rompere niente? no dove sono andati dentro i due? qua c'è la nebbia la nostra nebbia morto anche questo con serenità ma ce n'era un altro eh ma non è che è sceso ma secondo me era caduto nel buco perché mi sembrava che sia ecco perché io preferisco farlo perché non si sa mai che intanto sei dietro che vai nella nipia prima o poi me lo ritrovo e ci da frammenti di titanite è buono anche questo ma qua ne troviamo tanti frammenti di titanite no? allora qui ci sono dei funghetti non era meglio farli tu? no 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 che questi qui eccolo qua adesso ha sputato no ha sputato adesso oh c'è anche ah si c'è anche lui lo facciamo perché so che ce n'hanno tanti di che funghetti? no 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 sono solo tre mi sembra sicuro? si si un frammento di titanite? o tre o quattro hai visto quanti che ce ne lasciano qua? allora attenzione qui eh perché questo mi sembra che c'ha della eccolo qua lo sapevo bene l'hai già quasi ucciso ma perché sono tornato indietro non dovevo dovevo mettermi solo lo scudo la torcia? si una torcia? faccio questa per una torcia per cavolo qua non c'è altro? vabbè qui c'è un motivo perché ti da la torcia però si? eh si poi poi capirai ma penso che tu lo sappia già allora qui non c'è più nulla a meno che adesso ci andiamo a fare quel saltino mamma mia e prepariamoci le mille morti ti ricordi come facevi a saltare la? ma io non penso che moriremo tante volte magari una si ah perché stavo per dire sei un genio ma era un genio inutile no l'ho fatto troppo lungo però è questa la tecnica che devi piantare per fermarti devi piantare la spada a terra per fermarti perché sennò ha rotto la via eh si rotto la via io sono saltato troppo in là dovevo saltare un pochino prima vabbè comunque questa è la tecnica per arrivare eh a destinazione lì è una è una zona dove ci sono ehm qualcuno da uccidere ma c'è una ricordo male c'è una balestra che è più tre che è buona sì ma noi non lo usiamo mai la balestra andiamo a prenderla perché siamo puntigliosi no andiamo a prendere anche perché c'è anche qualcos'altro che non mi ricordo però eh però eh però andiamo a fare il chiatone andiamo a prendere sì facciamo anche quello che si avvelena lo facciamo subito senza evitare no lo facciamo noi perché sennò perdiamo troppo tempo dai avvelenati ma vieni qua perché ci mettiamo troppo tempo attacca morto passiamo via serenamente dobbiamo sparare a quelli però non sono morti vabbè questo qui lo faccio subito io qua ok facciamo abitare che è sempre buona ok ho fatto anche questo e l'altro il secondo e il terzo eh sono due vieni dai vieni 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 uno dei due deve che venisse dai buono tu non vieni? dove è saltato giù? è caduto ah c'è ancora la spora? sì ti hai una freccia quella spora e questo dove stavo? eh fagli il colpo dall'alto beh noi finalmente dobbiamo sparare anche quello no ok e riproviamo il nostro no ancora uno ancora uno ok proviamo il nostro saltino mi devo ricordare di saltare un pochino prima bravo occhio occhio ok saltino eseguito qui c'è qualcuno qua dietro però attenzione eh eh che c'è non mi ricordo c'è sta uno ah arriva eccolo qua è una specie di ninja sempre quelli tutti esaltati sono questi no? che ci lascia? non lo so ah i manichini sono questi un costumino da manichino buono poi eccolo qua un altro cos'è sto rumoreccio? eh beh è stata una trappola sì però io ero dall'altra parte quindi ce n'è ancora uno non mi ricordo dove sta eccolo qua ecco c'è un lumino anima del soldato e frammenti di titanite 3 e qui ci dovrebbe essere la balestra non so se c'è solo la balestra o c'è qualcos'altro dardo pesante e balestra pesante più 3 era quello c'era anche ti dava anche ma adesso noi moriamo per saltar via? perché lo dovremmo? ah non so riusciamo a saltare senza problemi dovremmo saltare senza problemi ehm dovremmo però eh perché ci sembra un condizionale ma certo siamo fortissimi oh perché andi qua? eh devo per forza andarmene di qua ah si? eh si devo arrivare un'altra volta su per andare nella nebbia ah ok ok ma quelli ti seguono o no? no vabbè ma poi allora andiamo a fare il boss si andiamo il boss era quello cicciolone merdoso quello cicciolone cioè quello tutto schifoso si è uno è uno che praticamente non so perché ce l'abbiano messo in questo gioco è un boss che non è un boss non serve a niente perché non è un boss? perché è talmente stupido sei sicuro? si non dovrei ricordare male noi ci buttiamo nella nebbia subito dovrebbe essere un vermone gigante ma faceva qualcosa questo? si questo ogni tanto saltava o fa un saltino vedete? io mi ricordo che era orribile ma dai fai il saltino bravissimo attenzione che non ti schiaccia è proprio brutto occhio occhio si adesso si rotola a volte si rotola adesso? adesso si rotola un'altra volta aspetta si ok ancora? eh mi ha preso stavolta via via bevi? eh dovrei se mi riesco ad andarmene si ok in pratica fa solo questo aspetta la foglia fa solo questo in pratica quindi non è difficilissimo adesso salta ah mi ha preso pure oh bravo e bevi appena puoi attento oh ma questo ha scatenato si sta scatenando eh è meglio se sta vicino e attacca questo pure ah anche con la linguist si sembra una specie di gremlin più berminoso attenzione fa la lingua si attenzione è nata la linguaggia ecco qua ok è andato chiaramente abbastanza no? si non è difficile quante anime ci dà? oh ci si è dimenticati l'anello eh vabbè dai demone della cupidigia demone della cupidigia potresti anche mettere l'anello nel frattempo scusa se ti rompo ma siccome nelle anime ci servono ok allora fammi ricordare da dove sono venuto perché sennò io mi dimentico siamo venuti da qua perfetto quindi in pratica su non si può salire perché qui la strada è interrotta e tutti quei vasi non i vasi sono tutti pieni di merdaccia allora dietro c'è qualcosa no perché tanto non possiamo andare di su vedi quindi dobbiamo andare di qua e salire e saliamo 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 qui c'è un falò che accendiamo subito c'è il signorino lì che adesso ci regala qualcosa non è sempre quella che non si ricorda si quella che a un certo punto ti dirà ecco ti da un anello di protezione d'acciaio più che a un certo punto ti dice che lei sta perdendo la testa lui o lei che ha un fratello che questo fratello è scomparso anche lui ma noi lo troviamo il suo fratello? beh non mi ricordo se lo troviamo si ti ringrazio sempre per ascoltarlo perché questa coperina è disperata non c'è mai nessuno che l'ascolta ok io intanto mi siedo un po' riposiamo salutiamo perché abbiamo fatto il boss abbiamo fatto il chiattolone e sì dai possiamo salutare qui e poi riprendiamo il nostro viaggio che comunque il boss era veramente sciocco proprio perché non ci siamo neanche allenati prima né niente ecco i nostri testi di allenamento esatto da casarci quindi niente dai ragazzi ci sono anche la porta beh al prossimo video ciao a tutti ciao grazie a tutti